Buongiorno Tony, allora io me ne vado, stasera pocherino a casa mia, non puoi mancare. No, non ti piace il pocherino. Ma dai, è un'occasione per bere qualcosa. Non mi piace bere. Per mangiare qualcosa. Mi piace mangiare. C'è gnocca. Non mi piace a gnocca. Senti, non voglio dire perché a me il Natale mette tristezza. Vabbè, come vuoi. Oh, guarda che però ti lascio un cliente per te. Ma dai, il turno è finito però. Se vuoi lo mando via, ma dice che è un problema enorme. Vabbè, dai, fallo entrare. Ok. Buon Natale, Tony. Eh, buon Natale. Guarda, mi ha beccato per miracolo. Se volo ci sono altri colleghi travi. No, io volevo proprio te. Dove hai chiamato le serbe? Quanti cavalli? Rebile. Quante rebile vorrei dire. Che ti succede, Tony? Perché non hai più la stessa gioia di quando eri bambino? Allora, guardi, sei uno scherzo di mio collega. Eppure eri così felice quando a sei anni ti portai quel trenino rosso? Oppure quando a dieci ti regalai quelle meravigliose scarpe di danza? Non facevi altro che ballare anche quando ti sei rotto la gamba. Ma non è come fa, San Diego. Io so tutto. Hai capito chi sono? La finanza. Basta! Il Natale non ha più molto senso per te. Eppure hai dentro un grande spirito e lavori in un posto meraviglioso, pieno di gioia. La stessa gioia che vorrei rivedere nei tuoi occhi. Su, ripeti insieme a me. Qui è sempre Natale. Qui è sempre Natale. Più forte. Qui è sempre Natale. Qui è sempre Natale. E ora corri fuori e gridalo a tutti i clienti. Qui è sempre Natale. Sì, qui è sempre Natale. Amici, qui è Natale. Se vuoi ritrovare la felicità, solato dei sogni ti va di viaggiare. Da Gaudieri è sempre Natale. Mmm, noleggio puoi far. Cosa vuoi di più? Puoi cambiare modello e sceglierlo tu. Da Gaudieri è sempre Natale. Qui c'è sempre un consulente, dedicato solo a te. Vedrai che sicuramente, avrai ciò che fa per te. A Natale o ad Agosto, qui ci puoi trovare. Corri forza, fai presto e non ci pensare. Da Gaudieri è sempre Natale. Come ti.